Stuoni è un progetto culturale ideato dall'Assessorato alla Cultura dell'Amministrazione Comunale di Castelpoto, nato tre anni fa all'ambizione di raccontare i grandi eventi della storia nazionale, in particolare quelli del Mezzogiorno. La formula scelta è quella delle installazioni video sonore, proiezioni, dibattiti, presentazioni di libri e musica serale e attraverso questo si cerca di raggiungere questi obiettivi. Il primo anno il tema trattato è stato quello del terremoto dell'80, nel secondo anno è stato trattato il tema complesso dell'immigrazione, sia immigrazione come nord e sud d'Italia, sia immigrazione come dalle parti più povere del mondo verso le zone più ricche e le zone più industrializzate. Il tema scelto quest'anno è stato un tema di prospettiva, anche per rompere l'equilibrio dei due anni precedenti, si è scelto di, attraverso laboratori di disegno destinati ai più piccoli, di far raccontare il futuro di questi territori, di queste terre, attraverso l'immaginazione dei più piccoli. La cornice prescelta è quella del centro storico medievale di origine Longobarda, molto suggestivo, molto bello, soprattutto di sera. Partner di questa rassegna è la Proloco di Castelpoto, che ha sostenuto questa iniziativa sin dal primo momento, ma è diventato anche un momento di condivisione con tanti artisti del panorama sannita, che sempre più numerosi affollano le nostre stradine del centro storico durante la tre giorni di studio. Alcuni affezionatissimi hanno offerto la loro collaborazione a titolo completamente gratuito. Stony ormai, come dicevo prima, è giunta alla terza edizione, è stata una formula molto apprezzata, che sicuramente sta crescendo nel corso del tempo e che sarà replicata nei prossimi anni. Sarà scelto sempre un tema importante e attraverso questo tema si genereranno altri eventi importanti che hanno segnato la storia e la vita di questi territori.